...immagini della partita di ieri, allo Iacovone è finita 5-1 per i giornalisti. Perciò vi sfidiamo noi, facciamo squadra amicisti. Giornalisti che giocavano con la divisa rosso-blu, i rappresentanti del Taranto staff tecnico, questo con la palla è D'Ignazio per esempio. Guarda che lancio! Poi ha giocato Pettinicchio nel Taranto, Armando Lupo, c'erano Biagio Fusco, adesso quelli che mi ricordo perché non sto leggendo. Mentre nella rappresentativa dei giornalisti vi erano vari rappresentanti della stampa, i marcatori Carlo Termite ha segnato tre gol, Luca Barone uno e Fanelli un altro gol. Il gol della bandiera del Taranto, della rappresentativa Taranto, è stato realizzato da Biagio Fusco sul 4-0 però, quindi quando ormai avevamo tirato i remi in barca. È stata una bellissima emozione giocare sul manto ex-erboso, devo dire perché non è più tanto erboso come lo era. Un tempo, anzi abbastanza duro, abbiamo visto Novelli anche tra i giornalisti, Luca Barone, ecco questo qui non mi ricordo chi è, comunque ecco la partita è questa qua. 5-1, non abbiamo visto neanche un gol in queste immagini. C'è stato un momento bello perché c'è stato l'intervento in borghese, in campo, dell'avvocato Bongiovanni che ha fatto irruzione in campo volendo segnare per la propria squadra, però è riuscito a tirare ma poi ha parato il portiere Fabio Ancona. Io ho giocato contro i cantanti, io fu uno dei primi, ti ricordi il campo? Sì, me lo ricordo. 18.000 persone c'era, c'era Cupo, c'era Morandi, c'era Mogol, ce ne stava… Parliamo degli anni 70, quando c'era il vecchio stadio in Tumbo. No, di dopo, circa il 78, torna all'80. Ed ecco il gol, questo è il gol del 5-1 di Luca Barone. Mogol. Bene, allora…